Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Sono lietissima di, con pochissime parole, introdurre questa lezione di un grande amico e un grande studioso. Voglio anche spiegare, veramente in mezzo minuto, che cosa stiamo ricordando in questa giornata. Nel gennaio del 77 venne inaugurato a Parigi il Saint-Compidou. Sono 40 anni e quell'edificio, direi forse quasi come la Tour Eiffel, è diventato il simbolo di quella città. Io naturalmente non voglio assolutamente dire nulla sulla concezione costruttiva, davvero lascio il microfono al professor D'Arcò per questo. Ma voglio solo introdurre questa conversazione con due brevi riflessioni su il significato storico, forse anche politico, di quell'evento. Quando Georges Pompidou ne volle la costruzione nel 69, Parigi, la Francia e il mondo intero erano ancora attraversati e ancora sentivano i postumi della febbre che li aveva contagiati nel 68. E nelle strade di quella città, come di tutta Europa, era ancora percepibile l'eco di quel maggio. Tra l'altro l'anno prossimo sono 50 anni e il 68. Mannaggia. La costruzione del Centre di Plateau Beaubourg fu la risposta alla domanda di una nuova concezione della funzione della cultura, emersa anche nel maggio del 68, emersa negli anni precedenti. E soprattutto io credo che contribui, quindi ha avuto queste due valenze. Da una parte riproporre la Francia come guida nel processo di modernizzazione, sfidando esplicitamente la leadership statunitense e anzi riconquistando a Parigi, sottraendolo a New York, il ruolo di capitale della cultura del XX secolo e allo stesso tempo, appunto, come ebbe a dire Pontus Hülten, lo svedese primo direttore del centro Pompidou, l'obiettivo era togliere le uniformi ai guardiani della cultura e naturalmente anche del centro. Quindi, come sempre e come spesso in Francia, diciamo, ambizione egemonica da un lato, diciamoci chiaro, e dall'altro invece l'antimonumento. Come disse, credo, piano, però forse, sì, mi sbaglio, uno sberletto fatto al potere. Cioè, ne ha delle tante, ecco. Dentro questa doppia sfida ci sono i 40 anni del Bobuga. L'altra notazione con cui voglio passare la parola al professor D'Arcò è che quel bando di concorso che ebbe un'enorme risonanza in tutto il mondo e questo per noi è, come dire, un elemento di legame, perché anche questo edificio nasce con un concorso di architettura, è un bando internazionale che ebbe l'onore, diciamo così, di vestire da un'altra postazione. Quel bando, come questo peraltro, era un bando rivolto esclusivamente agli architetti e proprio questa esclusività fece sì che il celebre studio di ingegneria di Arup a Londra non poté partecipare e fu costretto ad associarsi, su suggerimento di Fraiotto, con due giovani architetti trentenni, che erano per l'appunto Renzo Piano e Richard Rogers. Ecco, mi sembrava interessante anche dare questo elemento introduttivo, appunto, fermandomi qui e ricordando solo questo contesto culturale e politico, ma anche tecnico, della dinamica di questo concorso, per spiegare perché il Maxi, a 40 anni dalla sua costruzione, rende omaggio a questa grande realizzazione con una lezione tenuta da Francesco D'Arcò. Francesco D'Arcò non ha bisogno di presentazione, però fatemi dire due cose, intanto per ringraziarlo. Francesco D'Arcò è titolare della Cattedra di Storia di Architettura allo UF, è stato docente in importanti scuole e università, tra le quali Yale e Mendriso, l'Accademia di Architettura di Mendriso. ha dedicato grande parte della sua attività di ricercatore alla storia dell'architettura, approfondendo e pubblicando importanti monografie su tanti architetti, sicuramente me ne dimentico qualcuno, Francesco, mi perdono, vabbè, da Wright, a Meyer, a Scarpa, a Gary, a Tadawando, a Mario Botta. È stato dall'81 al 91 direttore della sezione Architettura della Biennale di Venezia e attualmente dirige la rivista Casa Bella e dirige anche il settore di architettura della casa editrice ELECTA di Milano. È un grandissimo piacere e onore per noi averti qui oggi. a te la parola. Grazie. Grazie, grazie mille dell'invito, grazie mille di questa gentilissima presentazione che tra l'altro mi facilita enormemente il compito perché il Presidente ha detto praticamente il 60% di quello che vi avrei raccontato io nel corso di questa chiacchierata poiché i temi che ha affrontato sono quelli che poi permettono di capire la storia di questo strano, complesso edificio che è fatto prima di tutto dei paradossi di chi ne hanno intessuto la storia e di un altro meccanismo il sovrapporsi dei luoghi comuni. I luoghi comuni di solito sono delle occasioni di perdita di senso delle parole che vengono usate nel cognarle quando si sovrappongono l'uno all'altro con tanta esistenza, forza, capacità di ripetersi e via dicendo costituiscono uno strato di significati che si deposita sulle cose che danno alle cose un nuovo senso e quanto è accaduto in tutta la storia del senso Pompidù. Diceva benissimo Giovanna la frase esatta di piano è questa noi architetti, lo ripeto sempre in quel gioco di understatement che è esattamente l'opposto di quello che si dovrebbe coltivare come un vero understatement noi architetti siamo sempre come i buffoni di una volta i pagliacci di una volta coloro che possono dire ai potenti le cose che nessun altro può dire loro e così il Saint-Trop-Pompidù è stato descritto come uno sberleffo da parte di alcuni buffoni al potere è una delle più sostanziali mistificazioni che richiama appunto una serie di infiniti luoghi comuni circa il ruolo il modo di essere degli artisti e via dicendo e che lo riduce appunto a qualcosa di familiare per tutti coloro che intendono le costruzioni, le opere d'arte e quant'altro appunto tramite la lente dei luoghi comuni è quindi necessario smontare tutto ciò e ripercorrere brevemente la storia e le condizioni in cui quell'edificio ha preso forma ed è stato costruito ripeterò cose che la Presidente ha detto in maniera così brillante ci sono dei protagonisti il 28 maggio del 1968 il primo ministro francese Georges Pompidou non sa dove si trova il Presidente della Repubblica Charles de Gaulle Charles de Gaulle sta parlando in quel momento è andato a trovare un suo vecchissimo amico un generale che lo aveva seguito sin dai tempi della resistenza francese contro l'invasione tedesca ma su quello che ha vinto lo ricordate il protagonista della battaglia agli Algeri di Gillo Portecorvo quello che per un certo periodo vince la battaglia ad Algeri che poi verrà risolta in tutt'altra maniera alcuni anni dopo ma è Massu questo personaggio strano voi siete sempre un con mon generale gli dirà quando lo incontra Baden-Baden De Gaulle Presidente della Repubblica si avvicina a questo generale che sta comandando le truppe francesi di occupazione in Germania gli dice vous êtes toujours un com general e lui risponde Massu risponde si sono sempre un coglione ma gollista e forte di questa di questa affermazione e di questa di questa presa di posizione del principale esponente delle forze armate francesi De Gaulle torna a Parigi torna a Parigi e in una riunione celebre che verrà riassunta attraverso una citazione dal suo primo ministro Georges Pompidou agli organi di informazione che lo interrogeranno dopo un consiglio dei ministri e dal suo governo in quei giorni di maggio che avevano tutti i caratteri che Giovanna prima ha ricordato ovvero sia una febbre che sembrava destinata a diventare contagiosa in tutta Europa in tutto il mondo e che soprattutto faceva assomigliare le strade di Parigi a qualche cosa che aveva scandito la storia contemporanea di questa nazione dal tempi della comune e segno in poi bene in quei giorni di febbre altissima di Parigi in cui non si capiva ed era difficile prevedere che cosa avrebbe rappresentato l'esito di quelle giornate di grande mobilitazione che erano tracimate mobilitazioni che erano tracimate dall'università l'intera società sono più di 10 milioni gli scioperanti in un giorno mi parlo del 25 maggio del 1968 un giorno sì che forse verrebbe la pena ricordare un giorno anche qui al Maxi perché poi ci sono state tante esperienze artistiche che hanno accompagnato quei giorni bene in quei giorni De Gaulle si segnala per la laconecità con cui conduce il Consiglio dei Ministri la reforme oui la Chen Li non e non dice altro sostanzialmente ed è questo quello che ripete Georges Pompidou ai giornalisti dopo la riunione del Consiglio dei Ministri e qui però bisogna fare un po' di attenzione la Chen Li e il Saint-Ancour lui ripetono ripetono gli studenti che dalla Ecole de Beaux-Arts producono che negli atelier gloriosi della Ecole de Beaux-Arts producono questi manifesti che vengono attaccati su tutte le strade di Parigi e che ricordano questa parola de sueta questa parola de sueta che De Gaulle utilizza sapendo perfettamente ed è qui il primo straordinario effetto retorico è intessuta questa storia di effetti retorici perché al di là anche della sciocchezza di parlare del proprio lavoro di architetto come quello di un buffone che piano amerà ripetene sono tanti artifici retorici e gli artifici retorici esattamente come accade per i luoghi comuni creano sulle cose degli strati di polvere che impediscono di capire bene scendì non era una parola affatto usata e tantomeno era capace erano capaci gli studenti delle colle de boussard di capire che cosa essa significava una parola del cinquecento di gargantù e poenta gruelle nessuno più lo usava questa parola se non se non in certi momenti in cui l'argot proprio militare ma proprio nelle caserme ne aveva cambiato completamente completamente il significato Chen Li è il buffone la maschera soprattutto il protagonista del carnevale parigino una una maschera che non ha che non ha caratteristiche particolari se non quella di portare sul suo costume i tratti di ciò che Chen Li significa originariamente farsi la popò ad osso a letto ed è questo il tratto che unifica questa figura questa figura che rappresenta come tutte le maschere durante il carnevale una condizione di alterità di libertà assoluta di inadeguate di inresponsabilità collettiva e riconosciuta rispetto alle regole pa de Chen Li nessuna mascherata quindi ma le riforme si e le riforme fatele voi gli studenti naturalmente protestano protestano in queste maniere in quelle che vedete il compito invece di gestire quelle riforme di far sì che le mascherate venisse tolta che la maschera venisse tolta dalla società francese così come essa si presentava mobilitata nel maggio del 1968 è affidata a questi due personaggi uno è Georges Pompidou quello che vedete il primo ministro a sinistra un giovane Jacques Chirac un altro dei protagonisti di questa storia protagonista perché all'inizio di questa storia cioè colui che in quanto ministro delle funzioni sociali non so bene non mi ricordo bene quale fosse la sua definizione il suo titolo vero comunque era colui che trattava con i sindacati in quei giorni di maggio ha un ruolo decisivo nel dare avvio a queste riforme ma avrà anche un ruolo decisivo nella storia del centro Pompidou quando improvvisamente Georges Pompidou muore e viene eletto Valéry Giscard d'Estaing come presidente della Repubblica Francese tutto l'impegno di Valéry de Stade d'Estaing sarà di bloccare la costruzione del centro Pompidou e sarà Chirac che lo metterà con le spalle al muro che metterà il suo presidente con le spalle al muro minacciando di dare le dimissioni immediatamente da membro autorevolissimo del suo governo del governo Giscard d'Estaing se la costruzione voluta da Pompidou non fosse stata portata a termine spetta loro fare le riforme dall'altro appunto un pragmatico politico come Chirac dall'altro in questi giorni in cui si discute se gli italiani sanno ancora parlare la loro lingua o scrivere la loro lingua un solidissimo professore di liceo un solidissimo professore di liceo che sapeva rispondere alle domande che gli vennero fatte nel corso di quella conferenza in cui riassunse Padre Chenli la reformoui le domande che gli venivano rivolte dopo questa affermazione dai giornalisti convenuti bene rispose citando a memoria un'intera poesia di Eluard qualche cosa che forse oggi i nostri politici farebbero bene a coltivare quell'imparare a memoria le cose come si faceva una volta che introducevano alla familiarità più intima con la lingua familiarità intima con la lingua che certamente era una delle doti di Pompidou ma non basta non basta semplicemente essere colti quando De Gaulle se ne va due sono le idee chiarissime che Pompidou ha in testa da un lato e lo ripete in continuazione e lo ripete in continuazione è stata una grande perdita per la Francia che un uomo così grande come era il generale De Gaulle non abbia lasciato segni tangibili del suo passaggio costruzioni edifici istituzioni edificate però non soltanto pensate edifici e dall'altro lato che la Francia deve essere il paese giovane e deve riconquistare nel culto della gioventù quel primato che alla gioventù si accompagna ossia il primato nel mondo della cultura della tecnica e della ricerca e soprattutto che la Francia deve essere la guida e qui è il pensiero europeista di Pompidou che è tradotto meravigliosamente in alcuni dei suoi appunti che sono raccolti oggi in una fondazione che la Francia deve guidare l'Europa ad acquisire definitivamente la sua autonomia rispetto agli Stati Uniti d'America la competizione culturale è un risvolto importante Parigi capitale del XIX secolo secondo Benjamin deve tornare ad essere la capitale del XXI secolo deve prendere il posto di New York diceva prima Giovanna giustamente ed è un progetto un progetto coltivato coscientemente in America ricordiamoci sempre che sono coloro che fanno di New York la città principale la città più importante per la cultura del Novecento non sono non sono sprovveduti non dal punto di vista intellettuale ma dei mezzi sprovveduti dal punto di vista politico personaggi storici dell'arte no si chiamano Morgan si chiamano Rockefeller sono i Mellon sono gli stessi la National Gallery di Washington viene costruita da Mellon che era stato il grande ministro dell'economia in prima di Franklin dell'Anno Roosevelt bene questo scenario è perfettamente chiaro e lo si legge negli appunti negli scritti di George Pompidou gioventù da un lato primato in vari settori e indipendenza economica un avvenimento un avvenimento emblematico nel 1976 esattamente un anno prima un anno prima che il Centre Pompidou venga inaugurato spicca il primo volo di prova a questo meraviglioso aeroplano si chiama Concorde e il flutto della ricerca della tecnologia avrà degli influssi la ricerca tecnologica applicata al Concorde anche nella costruzione del più antico degli edifici concepiti nel secolo scorso ossia il Centre Pompidou strano esastrano paradosso il più antico che si avvale delle più moderne tecnologie bene il Concorde che ovviamente doveva collegare alla velocità doppia del suono le mette ovvie che erano Parigi e Londra con gli Stati Uniti d'America invece il primo volo lo fa partendo da Londra verso il Bahrain e partendo da Parigi verso Rio de Janeiro gli americani non permettono ma questo aereo di atterrare negli Stati Uniti gli americani controllano il mercato del petrolio ancora oggi l'87% dell'energia elettrica francese è prodotta nelle centrali elettriche che Pompidou di cui Pompidou nelle centrali nucleari di cui Pompidou avvia la costruzione può piacere o non piacere ma è quello un segno di una scelta politica assolutamente di rimente il terzo tema è Parigi attrezzare Parigi a diventare la capitale della cultura c'era un'area a Parigi un'area sfortunata e unica si trattava di Platoboburg e qui nel 1969 in quello che vedete qua all'epoca ancora un parcheggio di camion si decide di costruire questo di costruire questo complesso inedito perché era inedito il programma nonostante quello che poi è accaduto negli anni del tutto inedito era il programma per la costruzione del Saint Pompidou perché un'area privilegiata è al contempo un altro paradosso un'area sfortunata un'area privilegiata perché da sempre anche le Corbusier negli anni 30 ma ancora prima tutta la cultura architettonica francese gli urbanisti francesi avevano parlato di questo vuoto di questa ferita nel cuore di Parigi della Parigi di Oseman trasformata da Oseman come una ferita da rimarginare ed è quindi Pompidou che sceglie quel luogo perché è una ferita da rimarginare ma quel luogo vuoto ha una funzione ospita i camion come vedete che servono un edificio particolarissimo straordinario bellissimo sì questo davvero bellissimo che non era il più antico edificio del suo secolo ma il più nuovo degli edifici del diciannovesimo secolo ossia Le Hall Le Hall il mercato centrale di Parigi uno dei prodotti più tipici più importanti delle grandi trasformazioni avvenute nella capitale francese nell'ottocento dopo il 1853 quando Oseman intraprende la trasformazione di Parigi la radicale trasformazione di Parigi in quella città che noi tutti conosciamo capitale del diciannovesimo secolo trasformazione radicale trasformazione Le Hall le vediamo qui vediamo in queste immagini hanno moltissimi significati stranamente e anche qui un altro paradosso nel momento stesso in cui in cui Pompidou decide di costruire in questa area il nuovo Sontre che porterà poi il suo nome dopo la sua morte le Hall si trovano in questa posizione il fatto che esse vengono distrutte che si decida l'abbattimento delle Hall contemporaneamente di fatto alla decisione di costruire il nuovo Sontre Pompidou crea una serie di infiniti risentimenti ecco la prima il primo paradosso il primo luogo comune questo sia un vero contundente luogo comune la distruzione delle Hall è frutto della decisione di costruire il Sontre Pompidou e così verrà descritto da tutti i reduci del 1968 sia che siano quelli che avevano partecipato attivamente alle manifestazioni sul boulevard Saint Michel a Paris nei boulevard della Rive Gauche a Parigi sia coloro che a quelle manifestazioni si erano opposti strenuamente è molto interessante sono i più di sinistra e sono i più di destra che accusano quelli che scusatemi questo linguaggio ancestrale di destra e di sinistra questi sono i più più di destra e più di sinistra che si oppongono che accusano appunto Pompidou di avere di fatto promosso la distruzione di questo magnifico edificio le cose non stanno affatto così la decisione viene presa dal comune di Parigi mentre il santo Pompidou viene costruito direttamente da George Pompidou per una semplicissima vocazione che è quella espressa dal suo rammarico quando nota che De Gaulle il grande De Gaulle non ha lasciato tracce del suo passaggio e poi era una parte della politica che prima Giovanna descriveva e che anch'io alla quale brevemente ho fatto cenno la reforma la reforma la reforma dei giovani ma le hall avevano un altro significato e qui diventa la storia diventa affascinante aveva davvero ragione ragione Krautheimer aveva veramente ragione Krautheimer il grande Krautheimer la storia dell'arquitettura è davvero una il più dolce dei veleni se lo si pratica in questa maniera il più dolce dei veleni la distruzione di questo edificio fa sì che tutti accusino di una gravissima errore politico il presidente ma questo edificio produce le hall produce il centro Pompidù è la madre del centro Pompidù gli architetti gli architetti Baltar e Gallet imploranti scrivono pregano insopportabili insopportabili con Osman hanno un atteggiamento viscido vogliono costruire a tutti i costi come fanno tutti gli architetti vogliono costruire a tutti i costi la loro opera e una persona con una spina dorsale straordinaria che si chiamava Jolie che la costruisce che la fa Jolie era un fabbro era uno straordinario fabbro il centro poi farò continuamente confusione perché sono la stessa cosa tra l'esale e il centro Pompidù appunto è il frutto di questa situazione ricordate i personaggi due architetti un grande un grandissimo un grandissimo fabbro che lavora alla forgia ed è tutto forgiato a Leal tutto fatto a Leal quello che ha raccontato la Parigi del capitale del diciannovesimo secolo è Walter Benjamin i Passagenwerk sono davvero il grande libro della modernità della contemporaneità che accompagna sia che noi lo sappiamo che noi non sappiamo tutte le nostre osservazioni del mondo così come esso ci è stato restituito dal 1800 dal diciannovesimo secolo e Benjamin sulle Hall che sulle grandi costruzioni in ferro di Parigi si sofferma mettendo in campo una conoscenza che rivaleggia con quella degli storici dell'arte più acuti degli storici dell'architettura più acuti le cui opere peraltro conosce perfettamente che cosa sono le Hall questo edificio leggerissimo dove scompare l'involucro dove tutto è aperto dove la tettonica l'arte di tenere in piedi i pesi smette dai il ben servito alla stereometria l'arte del tagliare le pietre il fondere manda a riposo definitivamente il taglio delle pietre la tettonica prende il posto della stereometria ma che cosa comporta la stereometria c'è un passo meraviglioso di Benjamin che è anticipatore di tutto quanto accadrà nella storia dell'arte da quel momento in poi dalla metà dell'ottocento in poi è il prevalere definitivo del dettaglio del frammento il frammento non è più cosa separata ma il frammento moderno il frammento prodotto dalla tecnologia prodotto dall'arte di fondere dall'arte della fonderia è un richiamare altri frammenti non è affatto la separatezza non è il disgregarsi delle cose ma il modo nuovo contemporaneo di unirsi delle cose e cambia la natura del progetto architettonico il progetto architettonico non è più previsione di una massa che nasce dalla stereometria delle pietre ma è bensì previsione di un processo di montaggio ciò che il progetto fa è progettare un processo come tutti questi frammenti che richiedono la vicinanza di altri frammenti e che quindi sono capaci di comunicare il proprio senso e il proprio significato mettendo definitivamente a dormire la divisione scolastica tra scopo e senso bene a questo punto cambia definitivamente il modo di essere dei progetti il centro Pompidou è frutto di questo è la fine della scolastica e la fine dell'idea secondo la quale senso e scopo sono due cose separate e conflittuali ancora Miss Van Der Rohe ne parlerà esattamente in questi termini ma andare a dormire questo principio scolastico San Tommaso a questo punto è davvero liquidato ed è liquidato in questo luogo in questo posto in questo posto che come vedete ha questo aspetto e i protagonisti sono questi il protagonista è Renzo Piano giovanissimo lo vedete e accanto a lui Ted Apple tutti i personaggi di cui adesso parleremo faremo rapido cenno hanno tutti i tratti che dovrebbero possedere i giovani sono obiqui viaggiano vanno in giro fanno esperienze non sono statici non sono stanziali niente di stanziali nello studio di piano nello studio di piano e Rogers a Parigi si parlano 11 lingue diverse la gente viene la gente terribile parole le persone vengono a lavorare parlando lingue e idiomi diversi hanno esperienze compiono esperienze sono guidati Ted Apple un ingegnere un ingegnere geniale fa parte di uno studio di uno studio particolarissimo quello fondato da questo signore Awe Harup qui lo vedete lo vedete in una costruzione molto molto particolare si tratta della più straordinaria messa in scena di una serie di luoghi di affettivi particolari per la cultura architettonica e non solo architettonica artistica del novecento una duplice spirale vedete in realtà è semplicissimo sono due travi appoggiate non c'è nulla di complicato un po' più complicato farle stare in piedi e farle così sottili dove Harup ci riesce lo fa lavorando con Berthold Lubetkin Berthold Lubetkin era il più intelligente tra gli architetti degli anni trenti inglesi ma era russo e che cosa fa Berthold Lubetkin prende la duplice spirale prende la molla la duplice molla che si ritrova in tutta la pittura e in tutta la grande scenografia russa dopo il 1917 simbolo di quello che era successo nell'ottobre di quell'anno nel teatro di Mayer nelle scenografie di Alexander Exer dappertutto ritorna perfino in Eisenstein la duplice spirale questo movimento lui la costruisce ove Harup la costruisce la progetta Berthold Lubetkin che conosceva la Russia e che dalla Russia era arrivato a lavorare in Inghilterra e questa duplice spirale serve a questo è una piscina per i pinguini che si muovono soltanto sopra i pinguini ma è purtuttavia un magnifico edificio intelligentissimo ove Harup e naturalmente così intelligente da dare la possibilità a tre tra i suoi più giovani collaboratori quelli che qui vedete Leonard Groot Ted Happold e Peter Rice di costituire uno studio a parte uno studio sperimentale all'interno del suo studio come si dovrebbe fare sempre naturalmente alla guida di questo studio Structure 3 ci mette il più collaudato dei suoi collaboratori Jenkins Ray Reynolds Jenkins vero? vero lui sa tutto ecco il signore lì seduto in prima fila sa molto più di me a proposito del Santo Compito Ronald Jenkins sono sono giovani hanno un punto di riferimento fisso Fraiotto Fraiotto i disegni di Fraiotto degli anni 50 l'uso soprattutto dei modelli dei plastici perché i plastici rendono evidente dove vanno le forme in altri termini rendono evidente ciò che il Santo Pompidou renderà del tutto chiaro lampante come le forze producono forma la forma non è qualche cosa che è separato dalla forza la forma è in realtà il prodotto dell'andamento delle forze ed è questo quello su cui lavora continuamente Fraiotto alla ricerca di questa verità tenete presente non uso questo termine a caso di questa verità dell'architettura la forma è il prodotto è la manifestazione dell'andamento vero delle forze ciò che noi non vediamo attraverso la forma appare alla nostra vista non ci sono più misteri tutto ciò che viene fatto in questi anni avviene negli Outlaw Lens teorizza Buckminster Fuller negli Stati Uniti d'America e Buckminster Fuller è l'alter ego di Fraiotto negli Stati Uniti è riferimento costante per i giovani ingegneri di Structure Free a Londra ma anche per architetti come Renzo Piano e Richard Rogers che ancora non si conoscono questi sono i famosi progetti utopici di Buckminster Fuller fuori dalle leggi tutto lo sviluppo della tecnica moderna avviene su terreni che sono fuori dai luoghi definiti dalle regole e dalle leggi è il luogo della non ortodossia quello dello sviluppo e della tecnologia moderna guardate questa immagine è un'immagine disegnata da Renzo Piano vedete quello strano pallone troverete adesso la spiegazione della sua troverete tra poco la spiegazione della sua presenza è un laboratorio itinerante una tenda di fatto strutture leggere strutture continuamente modificabili trasportabili la leggerezza la ricerca della leggerezza e dall'altro la espressione dell'andamento delle tensioni e delle forze sono tanti tratti che che uniscono quanto Piano va facendo prima di incontrare a Londra Richard Rogers e poi di iniziare nel 1971 l'avventura del concorso per il Bobburg Peter Rice e i suoi amici sono i suoi più stretti collaboratori in Structure Tree sono persone che viaggiano hanno conosciuto molti studi per esempio Ted Happold lavora con Severud Severud è anche lui un emigrato anche gli Stati Uniti traevano allora molto molto vantaggio da coloro che emigravano nel paese ed era una cosa abbastanza utile da ricordare forse in questi giorni bene anche Severud era un grande ingegnere ed è colui che calcola l'arco di St. Louis di Errol Sarin e Ted Happold va a lavorare con Severud negli Stati Uniti per imparare da lui come si fanno bene le cose nel campo degli studi di ingegneria e delle costruzioni Peter Rice invece nel 1964 è giovanissimo viene spedito sul campo di battaglia per l'Antonomasia dove lavora lo studio di Ovearup qui a Sydney adesso vedete la storia non solo è la storia dell'architettura la storia dell'architettura non solo è un meraviglioso è un meraviglioso veleno ma è anche istruttiva per certi versi e quello che adesso vi racconterò è la dimostrazione che Lorenz non si sbagliava al fatto quando banalizzando le intuizioni di quel genio che ha inventato il computer il protagonista di quel film Wonderful Mind ve l'ho ricordato bene banalizzando una delle sue intuizioni o meglio una delle sue formule spiega che noi viviamo in un mondo in cui può accadere che un battito di ali di farfalle in Amazonia produca un tornado in Texas è assolutamente vero vale anche per la storia vale anche per la storia dell'architettura che cosa unisce quello che adesso vedremo a quello che succederà da lì a pochi anni a Parigi al centro Pompidou vediamolo 1964 Ove Arup assiste Jorn Hudson anche lui danese che aveva vinto il concorso per costruire questo edificio a cui l'Australia segnava il compito di essere il monumento che la rappresentasse Pierluigi Nervi Candela i più grandi i più bravi tra gli ingegneri i pensanti coloro che pensano alle strutture dicono è impossibile quel progetto non è costruibile il progetto pensato da Ove Arup non è costruibile ma tra i giudici del concorso del 1956 c'era Saarinen e Saarinen usava Severud come suo ingegnere e Severud conosceva Ted Appold e sapeva chi era Ove Arup e quindi quando Jorn Hudson si trova in difficoltà Saarinen gli scrive gli dice c'è qualcuno che te lo può far stare in piedi quell'edificio lo trovi a Londra sono giovani molto piccoli ma però vai da loro inizia così un confronto che si risolverà nel 1966 quando Hudson abbandonerà di fatto la costruzione dell'opera di Sidney che viene portata avanti da questa persona da Peter Rice e questa è l'opera di Sidney e questo è il suo successivo lavoro il Centre Pompidou che cosa accade in questo passaggio Candela il grande strutturista scriverà un saggio meraviglioso su questo argomento il peccato dell'opera di Sidney ora Candela era un ingegnere un architetto un ingegnere ma invece di andare a sentire le chiacchiere degli architetti all'università di Madrid andava ad ascoltare le lezioni di Ortega y Gasset un grande filosofo ed è permeato il suo modo di concepire l'ingegneria di questo pensiero del pensiero di Gasset tant'è vero che il suo saggio in cui dichiara afferma l'opera che il quanto Hudson voleva costruire era insensato eticamente e moralmente dopo vedremo perché bene conclude dicendo è l'espressione del fatto che noi viviamo in un'epoca in cui la nostra la nostra la caratteristica del nostro tempo la nostra smisurata arroganza non è altro che la misura della nostra smisurata ignoranza e conclude dicendo appunto che il compito dell'ingegnere non è quello di rendere possibile qualsiasi stupidaggine un architetto compia perché questo è moralmente riprovevole ma è altrettanto eticamente riprovevole che un architetto concepisca qualche cosa che non può essere costruito Lorenzo Piano e Richard Rogers si incontrano casualmente è un fa parte delle leggende che naturalmente accompagnano la storia del centro Pompidou si incontrano a Londra e poi all'inizio del 1971 Ted Appold compra il acquista il bando di concorso per il concorso di Plato Bobur costasse 200 franchi e sa di non poter partecipare che cosa fa vada Fraiotto e gli chiede con chi lo devo fare dammi un consiglio e Fraiotto gli dice c'è a Londra un giovane interessante abbastanza bravo con cui ho avuto modo di collaborare pur non potendo fare niente con lui alla fine si chiama Richard Rogers Ted Appold va da Richard Rogers e Richard Rogers ha un amico con cui si comincia a lavorare che si chiama Renzo Piano si forma un team Apple mette a disposizione di questo team quel Structure 3 di cui abbiamo visto e soprattutto l'intelligenza e l'esperienza di Peter Rice dal primo giorno Peter Rice cerca di far sì che non accada quanto era accaduto a Sydney a Sydney il suo capo il suo responsabile per la costruzione dell'opera di Sydney era Jenkins 365 mila ore di calcoli 365 mila ore di calcoli per non giungere a niente 2600 ore di computer di quell'epoca dovete immaginare un computer nel 1964 che cosa poteva fare questo farebbe mille volte di più di quel computer milioni di volte di più di quel computer era di racandela Jenkins era schiavo del suo passatempo aritmetico e così facendo compiva una azione moralmente riprovevole Peter Rice conosce tutto questo e lo sa e metterà tutta la sua esperienza al servizio della creazione di un team che dovrà semplicemente essere funzionale a ciò che il metodo costruttivo da loro inventato nel primo momento richiedeva un processo non era più un progetto così come si intende tradizionalmente secondo la visione delle col de Beaux-Arts non era uno schizzo correva era un ritornello nello studio parigino dove si faceva il progetto dopo la vittoria una piccola incisa un'anticipazione di quanto vi dirò correva un ritornello c'era un ritornello che si ripeteva tra tutti quei ragazzi giovani che parlavano tante lingue diverse avevano tutti sui 30 anni erano tutti piuttosto piuttosto all'inizio delle loro carriere bene il ritornello era questo che gli architetti francesi si distinguono dagli altri ed è questa una delle ragioni per cui i sette anni richiesti per la costruzione del centro Pompidou verranno accompagnate di altrettante cause legali che il team dovrà sostenere contro gli architetti francesi sette anni che cosa dicevano? gli architetti francesi si distinguono perché vanno a letto presto per qualsiasi persona che ha vissuto in uno studio di architettura sa che quando si fa un concorso si deve consegnare un progetto andare a letto presto è un sogno non si va a letto presto non si va a letto presto in Italia non si va a letto presto in nessun altro in Francia si va a letto presto l'architetto va a letto presto l'architetto è l'homme de croquis quello che dà i disegni gli schizzi e una volta fatto lo schizzo poi ci pensa l'impresa ci pensano i costruttori a trasformarlo in qualche cosa di realizzabile questa prasse era incompatibile con il metodo di costruire il centro Pompidou e quindi ciò che Peter Rice fa ed è davvero l'architetto è di creare il meccanismo che permette di attuare quel processo di cui prima vi ho parlato è Walter Benjamin la sua idea di frammento che parla all'origine stessa dei primi disegni che trasformano le immagini mirabolanti preparate per colpire la fantasia della giuria per il progetto di concorso in qualche cosa che verrà rapidissimamente costruito a dispetto di quanto gli architetti francesi faranno ci sono infiniti riferimenti andiamo devo andare quanto tempo ho? mezz'ora? allora saltiamo un po' di cose beh questi li conoscete quali sono i modelli? quelli che lo fanno e che presentano sono 681 li ha messi al concorso per Boburga e il loro progetto risulta vincitore risulta vincitore inaspettatamente anche qui tantissime storie da raccontare ma non perdiamo quali sono i modelli? uno su tutti più di tutti questo Fan Palace si tratta di un progetto fatto da Cedric Price un personaggio divertentissimo e stranissimo legato al partito comunista inglese negli anni sessanta ma amicissimo ma amicissimo di Alistair McAlpine che diventerà poi il tesoriere di Margaret Thatcher e via dicendo con un'altra signora molto particolare che si chiamava John Littlewood lei davvero è iscritta al partito comunista che sognava di essere lei l'interprete di un processo di formazione delle masse attraverso il teatro popolare la riedizione dei carri di propaganda dell'unione sovietica eccetera questo progetto di un luogo per la cultura indefinitamente la cultura non definita cultura è un passaggio straordinario siamo negli anni sessanta è il primo segno del tempo libero della celebrazione del tempo libero l'Inghilterra ricordiamoci è il paese che esce più tardi di tutti dalle restrizioni della guerra è davvero la celebrazione del tempo libero di questo palazzo fan place il fatto che esso possa essere costruito lì dove non vi è alcun ruolo istituzionale per la cultura è davvero il momento in cui l'Inghilterra registra la propria uscita dalle ristrettezze della guerra la quale si riproduce sulla vita degli inglesi con delle restrizioni per noi anche per noi davvero poco immaginabili davvero inimmaginabili da tutto ciò nasce bellissimi anni 60 inglesi sono gli archigram questi inventori di fumetti e di trasformazione dell'architettura in fumetto vi ricordate però quel progetto di piano che vi ho fatto vedere precedentemente c'era anche lì un pallone aereo statico questa idea di leggerezza di potersi sollevare insomma di poter fare qualsiasi cosa con la nuova tecnologia ciò che nasceva nei territori al di fuori delle leggi di cui parlava Buckminster Fuller con le forme leggere che Fraiotto aveva messo a disposizione di tutti coloro che volevano cimentarsi con queste nuove sfide dell'architettura naturalmente nessuno di questi disegni di questi progetti sarebbe in grado di sfidare la seconda legge di Newton sono puri e semplici rappresentazioni sono giochi e via dicendo non sono giochi invece altri riferimenti che piano e Rogers e Cedric Price utilizzano nell'immaginare ciò che è il primo progetto per Saint-Pont-Lidoux ovvero sia un utile informativo una macchina per informare vi sono tanti passaggi precedenti ma questo è uno nella maison della pubblicità di Nietzsche del 1936 credo 1931 non mi ricordo bene e vedete che vi sono delle assonanze con l'irrealizzabile progetto che Piano Rice e Rogers presentano per il Saint-Pont-Pont-Lidoux vi dovrei parlare moltissimo di questo di questo di questo primo progetto che ovviamente non sta in piedi come non stava in piedi nessuno dei progetti degli Archiclum non era questo dovevano colpire la fantasia della giuria ci sono tanti passaggi questo è il primo il primo plastico che viene realizzato e questa è la giuria e qui ritorna di nuovo Pompidou Pompidou è lui che gestisce che gestisce tutto il processo lo fa al di fuori dei ministri è direttamente un ufficio che fa riferimento a lui e i personaggi che vengono chiamati a far parte della giuria sono di primissimo piano e in particolare assolutamente decisiva la scelta di affidare la presidenza a Jean Prouvé e Jean Prouvé come Jolie come il signore che aveva costruito le alle centrali a Parigi era un fabbro da qui la rabbiatura che potrebbe essere commentata solo citando quella famosa la canzone di Conte sui francesi alla vista delle imprese di Bartali si arrabbiano tantissimo non è nemmeno un architetto è il più bravo di tutti loro e Pompidou lo fa diventare presidente della giuria da qui infinite cause infinite problematiche e via dicendo e quando si inaugurerà il Centre Pompidou continuamente nella stampa francese la richiesta a Prouvé ma lei non è pentito e lui risponderà sempre davvero in maniera a Damantina no era il progetto migliore Philip Johnson qui proprio nel momento in cui illustra la tavola del Centre Pompidou e qui appunto Prouvé e Prouvé quando insegna non in un'università non certo all'Ecole des Beaux-Arts ma bensì alla scuola di arti e mestieri come vedete naturalmente perché lui era un fabbro si era formato come un fabbro e poi il progetto comincia a divenire a cambiare ma non perde questo suo carattere di utile informativo la facciata è di fatto un grandissimo schermo dove può scorrere di tutto qualsiasi informazione può arrivare lo vediamo qui adesso nella sua configurazione a noi più familiare due facciate contrapposte Padecenli niente maschere e se ancora su quello che è oggi la piazza Pompidou vi sono troppe maschere sul fronte di plateau di San Trapompidou di quello che oggi è diventato San Trapompidou e sulla strada di dietro che invece le maschere scompaiono definitivamente e vedremo come questo è possibile che cosa questo significhi il clima il clima di quegli anni è stato scavato è stato scavato il primo è stato realizzato il primo scavo per le fondazioni del San Trapompidou vedete sulla zestra che cosa come venisse accolto quel momento quello scavo uno dei membri dello studio al pugno alzato è un simbolo un segno forse una delle fotografie che meglio rendono giustizia il fatto che è vero quello che Roger Spiano continuamente e tanti altri hanno ripetuto il San Trapompidou l'abbiamo concepito nello spirito del 1968 ma quello spirito era emigrato ed era diventato lo spirito della politica che la reforme stava perseguendo grazie a George Pompidou e alla sua intelligenza politica sono questi gli anni ma andiamo avanti gli scavi procedono rapidamente e si realizza rapidamente il San Trapompidou sono pochi anni 74-77 perché? perché è un montaggio è un sistema di montaggio un sistema di montaggio che è reso possibile dalla trasformazione andiamo avanti e dall'uso di alcuni modelli e di alcune tecniche costruttive i modelli sono quelli che derivano per esempio dalle esperienze che Fraiotto aveva fatto con le coperture dell'area olimpica a Monaco soprattutto il deflettore per il sostegno dei cavi è uno dei è veramente uno dei genitori non dei genitori dei parenti dei genitori più stretti del San Trapompidou e l'altro è questo mirabolante spazio creato da Tang per Osaka questo straordinario spazio vuoto e via dicendo le tecniche che usate le scelte delle tecniche usate bene tutti i più di 110 milioni di persone che a dispetto delle più drammatiche previsioni hanno visitato il centro Pompidou dal 1977 lo guardano come l'immagine di un futuribile calato sulla terra calato all'interno di una nostra città invece il centro Pompidou è proprio vecchio è una cosa fatta di cose vecchie di cose vecchie riutilizzate continuamente riutilizzate con un'intelligenza sublime e con una sublime capacità di usare il vecchio affinché dialoghi attraverso tutte le sue parti che hanno origini diverse e di metterle insieme così quando si devono rispettare l'altezza di 42 metri per il centro Pompidou il problema è di ridurre l'altezza dei piani e per ridurre l'altezza dei piani bisogna abbandonare la prima soluzione strutturale che era quella ovvia delle travi Firendel il primo nome che si impara sciocco che si impara in una facoltà di architettura di qualsiasi parte del mondo e di optare per un altro tipo di trave molto più intelligente le travi Warren e lavorare sulle travi Warren e renderle leggere far vedere come esse trasmettono le forze e dematerializzarle scomporre tutte le parti una nell'altra ma chi le fa le travi Warren le fanno i tedeschi e qui sorgono non pochi problemi sono fatte in questa maniera qui le vedete rovesciate e qui le vedete montate perché il centro Pompidou è fatto di cinque piazze una sovrapposta all'altra e quindi il tema della trasparenza è fondamentale la continuità è fondamentale così come le travi Warren garantiscono la trasparenza allo stesso modo si tratta di garantire l'assenza all'interno dell'edificio di qualsiasi corpo che sia che possa interrompere la continuità dello spazio da qui l'invenzione l'invenzione geniale antichissima che è questa delle gerberette gerberette è un nome geniale tutti pensano sono giovani avevano 30 anni andavano a bere vedevano chissà che belle ragazze a Parigi con chi si accompagnavano con i ragazzi dello studio con qualche donna che aveva un qualche nome che finiva in net come tutte le protagoniste delle vicende sentimentali del romanzo dell'ottocento francese tutti i giornalisti i critici ha scritto ah le gerberette chi è la signora gerber gerber e no e non è andata proprio così questo pezzo di 12 tonnellate che ha una funzione straordinaria che viene studiato che viene studiato da Peter Reis viene costruito qua in queste fonderie vedete proprio i luoghi la Peeling una delle succursali della Krupp in Germania dove si lavora esattamente come si faceva una volta dove per tastare però questi pezzi giganteschi di acciaio venivano impiegate le tecniche più avanzate quelle utilizzate sia per studiare il comportamento del Concorde sia soprattutto quello per studiare il comportamento dell'acciaio che veniva allora impiegato per la costruzione delle piattaforme per torifere nel mare del nord e questa è la struttura come voi vedete le travi Warren che si appoggiano sulle gerberette spiegherò tra poco è semplicissimo sono dei grandi piloni ai francesi aspettano costruire i piloni le parti antiche invece quelle in acciaio le fanno in Germania la cosa creerà dei problemi l'idea poi era di usare i piloni per contenere l'acqua per il sistema d'antincendio ma non è possibile farlo le gerberette vengono impilate una sull'altra vengono impilate sui piloni vengono fissate e poi sulla loro testa più breve arrivano le travi Warren due alla settimana se non vado errato di notte e di notte bisogna addirittura inglese una cultura tedesca ma anche tantissimo di una cultura nordafricana le gerberette le travi Warren arrivano a Parigi dalla Germania e c'è impresso su ciascuno di essi il marchio della Krupp e i plotoni di lavoratori algerini prima del loro montaggio passano il tempo a cancellarlo il Krupp non si deve vedere e così le gerberette vengono montate e vengono montate le travi Warren vedete che le travi Warren si appoggiano alla parte più ridotta dell'estensione delle gerberette che funzionano che permettono poi di appendere tutto ciò che sta fuori ecco come vengono montate i momenti del montaggio il movimento possibile eccetera eccetera la gerberette questa cosa materna perché vedete che accoglie maternamente la testata della travi Warren gerberette no non era non c'era una signorina gerber in qualche bistro di Parigi gerberette viene da un nome tedesco ancora una volta Heinrich Gerber un ingegnere uno straordinario ingegnere fido servitore dello stato bavarese che aveva impiegato la gerberette ovvero si aveva impiegato la sella che prende il suo nome che si chiama sella gerber nella costruzione del ponte del ponte di Asford che lì vedete che qui vedete nel 1857 il centro pompidù il principio statico del centro pompidù nasce nel 1957 quello che voi vedete nel centro pompidù è esattamente quello che voi vedete qui nel ponte di Asford questa è una gerberette questa è una trada che appoggia su una gerberette retta il centro e via dicendo è uguale è la stessa cosa non ci sono differenze saltiamo i calcoli che diventano troppo troppo complicati che cosa permette di fare la gerberette permette di avere delle travi sottili perché non devono coprire una luce ampia come quella che invece le gerberette permettono di avere inoltre permettono di appendere perché essendo delle dei corpi teoricamente mobili vedete su questo perno devono essere gravati qua e non bastano i tiranti questo sapete come si chiama per l'epoca è divertente quando l'ho detto la prima volta i miei studenti mi hanno guardato anzi quando l'ho detto per la prima volta mia figlia mi ha guardato come un deficiente ma che capperi dici Sputnik che cos'è uno Sputnik ma che è sto piccolo e Sputnik era perché nel linguaggio di quell'epoca Sputnik era quello e questo è uno Sputnik si chiama Sputnik questo nodo in cui convergono tutti i tensori diciamo così del del centro Pompidou e nel centro Pompidou si respira ciò che Price continuamente dice questo sapore questo piacere questo sapore odore e piacere tattile che il vecchio acciaio prodotto in fonderia continua a trasmettere funziona così il meccanismo del centro Pompidou la trave la vedete grande lunga che potendosi appoggiare in questo posto si assottiglia e qui la gerberette che regge tutto ciò che sta fuori perché tutto deve star fuori perché il centro Pompidou sono cinque piazze una sovrapposta all'altra libere non c'è un programma non è vero che il centro Pompidou nasce come un museo diventerà un museo principalmente ma nasce come cinque piazze sovrapposte e quindi è suscettibile di tutti gli usi possibili e immaginabili delle piazze e soprattutto con i suoi vuoti interni è suscettibile di assumere configurazioni spaziali continuamente mutevoli e tutto ciò che ingombra gli interni degli edifici a cominciare dalle scale è appeso alle gerberette è portato fuori sta fuori e nelle piazze si entra così liberamente e dalle scale dalle bellissime scale con i profili rossi si può osservare uno spettacolo meraviglioso logico quindi che siano tantissimi milioni di milioni coloro che lo vanno a frequentare e qui vedete come funzionano le travi Warren questa garanzia trasparentissima Guangzhou Ge Liang Lighting Technology Company Limited perché il pubblico del San Pompidou viene da tanti continenti è un'animazione capisco però che sia una protesta e che devo andare molto più veloce ancora un quarto ma questa leggerezza piccola dimensione piccola altezza delle travi Warren è davvero certo un principio antico ma declinato in una maniera straordinariamente attuale intelligente ed efficace ma soprattutto secondo il mio modestissimo punto di vista dove il Pompidou davvero rappresenta qualche cosa di nuovo è quando questo principio non diventa semplicemente non viene espresso semplicemente attraverso un artefatto quale sono le scale con il profilo rosso ma quando diventa il disegno di un'intera facciata tutto ciò che non serve che usualmente negli edifici è nascosto nelle pareti nei muri nei cavedi dappertutto qui è buttato fuori e tutto ciò che è buttato fuori contiene dei flussi porta dei flussi dei fluidi sono i fluidi tutti i tipi di fluidi perfino i corpi umani sono fluidi e trarre dal fluido dall'immateriale sostanzialmente il disegno di una facciata è davvero un passaggio straordinario a cui stiamo assistendo e qui bisogna dare atto che per quanto i principi siano quelli di una volta e quelli antichi la composizione su Rue de Renard su questa piccola stradina di Prarigi di una facciata fatta dell'immaterialità dei fondi dei flussi e della presenza invece scioccante del colore così come i maestri di Piano e Roger avevano loro insegnato essendo essi così appassionati delle vicende delle avanguardie sovietiche degli anni venti bene qui trova un suo momento di vero e proprio coronamento l'ingigantimento gli salti il mostrarsi perfetto sul lato di tutto quello che vi ho raccontato il centro Pompidou potrebbe essere raccontato semplicemente da questa immagine i suoi principi sono qui tutti mostrati si va avanti col centro Pompidou fino a quando si incontra la sua presenza che ha preso il posto a questo punto si ahimè non definitivamente delle alz centrali le alz centrali hanno continuato a rimanere dal 1969 fino ai giorni d'oggi il terreno di sperimentazione di tutto ciò che il centro Pompidou avrebbe dovuto sconsigliare la città di Parigi di fare ma le cose sono complesse le città hanno le loro storie la cosa più straordinaria e questo voglio fare un accenno che tra le tantissime critiche che sono state mosse al centro Pompidou una soltanto aveva un fondamento ed era quella che gli mosse colui che più di tutti si era battuto perché il concorso di bandito espletato nel 1971 portasse alla vittoria del progetto di piano Rogers e Rice ossia Jean Prouvé Jean Prouvé come vi ho detto per tutta la vita continuerà a dire era il progetto più adatto a quanto e questo è il passaggio al bando di concorso cioè il bando voluto dalle istituzioni che facevano capo al presidente della Repubblica Francesca da quello che è riuscito dall'incontro con De Gaulle dicendo Padre Chenli la Reform Oui e che aveva dopo recitato Elouard bene costui era colui che quel bando lo aveva messo a disposizione di tutti gli architetti del mondo ed è Prouvé che dice quel progetto è quello che risponde meglio a quel bando io però l'avrei fatto in maniera diversa il centro Pompidou è fatto in una fabbrica dell'ottocento se non del settecento è forgia è acciaio forgiato la critica di Prouvé è l'unica vera sensata critica di Prouvé si riassume nella contrapposizione di queste due immagini qui vedete dell'acciaio forgiato montato montato in frammenti dall'altra parte vedete un disegno di Prouvé se il problema è quello di cercare la leggerezza la leggerezza la dà la forma e quindi invece di avere l'acciaio l'acciaio forgiato l'ottocento il settecento lavoriamo con le forme con le lambiere che piegano che si piegano e usiamo la forma è il principio che ti faceva vedere il mio grande maestro di strutture Levi quando si è presentato per la prima volta in classe aveva un foglietto così e come vedete questo foglietto che è simile a una trave cade giù ma basta fare così e il foglietto sta su e regge anche qualche cosa è la forma ecco la critica di Prouvé quella struttura di piano erogere è un sistema trilitico che ancora si regge su pezzi certo tetonicamente definiti e non stereoticamente definiti ma non usa la forma non usa i vantaggi della forma e la forma si usa modellando corpi vuoti che danno ancora più leggerezza è la critica più radicale mossa come sempre accade le critiche più radicali sono mosse da coloro che sono più amici delle cose potrebbe finire qua ma vi è un aspetto ulteriore importante nella vicenda del centro Pompidou che vi voglio ricordare perché questo ha a che fare non già con i piaceri con le soddisfazioni con gli esercizi di intelligenza che possiamo fare allorché giriamo per una città viaggiamo per le cose belle che possiamo incontrare nel nostro mondo mentre si avviava la conclusione la costruzione la costruzione del centro Pompidou Piano e Rogers Rice erano cambiati i loro rapporti ma erano sempre insieme ricevono una lettera firmata da alcuni personaggi eminenti è il culmine di una serie di accuse che loro vengono mosse che a quel progetto viene mosso tutti gli anni a partire dal 1971 a partire dal fatto che la più importante rivista dell'epoca e l'unico è le monde che si batte perché questo argomento non venga nemmeno sollevato l'accusa che la Parigi sia messa in mano a un italiano e un inglese bene ricevono Rogers e Piano questa lettera in cui si dice che il centro Pompidou sarà l'offesa più grande alla bellezza di Parigi perché Parigi non ha e qui il passaggio non ha rivali al mondo la sua bellezza è intatta e via di seguito una lunga perorazione è uno scherzo è una lettera che è uno scherzo ma è uno scherzo fino a un certo punto ciò che in questa lettera è scritto era stato pubblicato il 14 febbraio del 1887 su Le Temps quotidiano parigino sotto il titolo La Protestation des Artistes e aveva come oggetto quella protesta la Torre Eiffel La Torre Eiffel offende il gusto francese viola la intatta bellezza di Parigi senza essere sciovinisti sentono il bisogno di dirlo senza essere sciovinisti dobbiamo affermare in tutti i modi che Parigi non ha uguali al mondo che la sua bellezza è unica non sono le firme false di coloro che le hanno ricopiato nel 1976 questa lettera e l'hanno spedita a Rogers e Piano sono filme vere sono quelle di Alexandre Dumas di Guy de Maupassant di Charles Gounod e via dicendo e soprattutto tra queste vi è quella di Charles Garnier l'uomo che aveva costruito l'opera di Parigi e che quindi alla fine dell'Ottocento mentre la sua opera veniva costruita afferma che la bellezza di Parigi è immutabile e che Parigi non ha rivali al mondo e che è intatta che cosa avrebbero detto che cosa avrebbero detto i progettisti delle Hall nel 1853 che cosa vedevano ed è questa la domanda che mi piace rivolgere a me e a voi insieme che cosa vedevano costoro che cosa vedono tutti coloro che pensano che il mondo che noi abitiamo è un mondo intatto intatto che cosa pensano che cosa vedono tutti i costoro che cosa vedeva Garnier dopo che Parigi dal 1800 1900 1853 era stata trasformata ad Osmand Boulevard non c'era Rue de Rivoli sarebbe stata completata dopo la Concorde è tutto dopo è una città fatta dopo era intatta quella a Parigi era intatta la Parigi dove avevano costruito le Hall era intatta di destra e di sinistra tutti rimpiangono bisogna avere l'intelligenza di Karl Krauss e semmai il Santo Pompidou fosse stato costruito così come l'avevano immaginato un utile informatif una grande televisione un grande schermo dove ciascuno avrebbe potuto scrivere quello che voleva mangiare anche qualche messaggio d'amore a una supposta gerberetta ginette e via dicendo qualsiasi cosa se tutto ciò fosse accaduto sarebbe stato bello poter scrivere su Santo Pompidou in risposta a coloro che pensano che noi viviamo in un mondo di intatta bellezza quello che Karl Krauss disse ai viannesi o una notizia devastante per gli esteti una volta la vecchia Vienna è stata nuova grazie io desidero ringraziare moltissimo il professor Dalco abbiamo ancora forse dieci minuti se qualcuno vuole vuole fare una domanda o così dopodiché mi piacerebbe estendere a tutti voi l'invito perché noi alle sette inauguriamo una mostra questa sera c'è l'opening della mostra però mi farebbe molto piacere voi che siete già con noi di avviarvi insieme a vedere questa mostra curata da Anru eccola qui sì veramente come ho vissuto il momento della costruzione una curiosità forse lo saprà che intorno a Bobur quando si costruiva c'era un grandissimo pannello con scritto chissà che voi pensate di questa offesa a Parigi e ognuno di noi doveva firmare e dire cosa pensavamo ecco questo per dire che cosa era Parigi in quel momento grazie grazie del ricordo è vero eccola un'altra la parte della piazza fa parte dell'idea del progetto come? tutta anche l'idea della macchina per comunicare la piazza diciamo fa parte diciamo di questa macchina sì nel primo progetto l'idea era che la piazza continua l'andamento della piazza che vediamo adesso è frutto di un rimaneggiamento del progetto di un adeguamento del progetto nel primo progetto la piazza doveva continuare l'edificio non doveva toccare non doveva interrompere la continuità della piazza pochissime parole tra Ruy de Renarde e la nuova piazza ci sarebbe stato uno spazio continuo la cosa piuttosto io non voglio avervi dato l'impressione di non avere oltre che una profondissima stima per coloro che hanno costruito il centro Pompidou avere anche un'ammirazione per quello che hanno fatto spero di avervelo comunicato non vorrei essere assolutamente frainteso il movimento della piazza è uno è un gesto architettonico è una decisione architettonica molto 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 bella molto molto significativa un monumento che affonda dentro alla città di Parigi è qualcosa di inedito insomma questo è un passaggio notevole quello che io vorrei spiegare sempre è che le cose belle degli uomini in generale sono anche frutto oltre che della loro intelligenza della loro predisposizione al bello della loro capacità sono anche frutto di una serie di infinite occasioni e circostanze che la vita accompagna il bello non è un'altra cosa se non si pensa in questa maniera non si capisce nemmeno io credo non si percepisce nemmeno che cosa è la profondità del bello quello che Kant ti ricorda sempre non ci sono strumenti per misurarlo perché non c'è strumento per misurare la vita se ho una domanda la vulgata che circola in Italia è che il santo pompidù è di Renzo Piano la domanda non è che in Inghilterra il santo pompidù è di Rogers e in Germania è di cose mi pare che ciascuno si sia appropriato cioè voglio saperlo si sia appropriato dell'origine di questa opera no per quanto credo di avere una certa dimestichezza con quelli quanti hanno progettato il Bobur anche con quelli che in me non ci sono più non ho mai notato che da parte di alcuno dei protagonisti della vicenda ci fosse un tentativo di appropriazione questo è avvenuto per un semplice fatto che in Italia Federico Rampini scrive solo di piano e non di Bobur e non di di Rogers ma questo è il modo di essere dei giornalisti così come il Guardian ha scritto soltanto prevalentemente di Rogers ma non è così non è così nella mentalità di coloro ma non è così neanche nella loro testa questo sono assolutamente sicuro ed è un frutto di un lavoro veramente molto molto collettivo che ha lasciato tra l'altro una serie di rizomatiche e influenze che hanno determinato la formazione di alcuni architetti molto molto interessanti voglio dire uno di quei signori che avete visto era Jan Kaplinsky che è stato un progettista uno dei primi molto molto interessante quanti sono passati attraverso Bobur attraverso quello studio sono tantissimi sono veramente tantissimi e poi è diventato un punto di riferimento notevolissimo c'è un anche qui ci vuole non è una non voglio difendere non mi può importare di meno io tantissimi anni fa con uno degli amici della mia vita che purtroppo non c'è più che era Manfredo Taffuri avemmo l'avventura io ero appena laureato un editore fantasioso ci chiese di scrivere un libro sulla storia dell'architettura contemporanea cosa che facciamo dopo una serie stranissimamente questo libro che è uscito all'inizio del 76 viene ancora ripubblicato e lo leggo non capisco che cosa capisco possono trarne in varie lingue del mondo ma recentemente mi sono molto divertito perché io non ho la televisione a casa quindi non seguo la televisione ho un computer ma non so usare i media ho un telefonino ma non so usare twitter e cose telefono e basta i miei amici mi segnalano uno mi è molto divertito mi ha detto sai che c'è uno che scrive su queste cose facebook non lo so che ti ha accusato di non avere di andare a Roma a fare una conferenza sul Boburga e di non averlo citato in architettura contemporanea e non era costruito non c'è grazie un'ultima domanda una curiosità un'architettura così innovativa così radicale nella sua dimensione architettonica urbana ha condizionato il progetto culturale dell'istituzione Boburga di quello che il centro poi sarebbe diventato e dell'impatto che avrebbe avuto sulla cultura dei musei contemporanei io penso anche al maxi come in qualche modo e non solo in qualche modo l'architettura di Zadid condiziona ci confrontiamo periodicamente con questi spazi e questo determina un progetto una programmazione culturale no non credo credo che siano due situazioni quella che voi vivete in video molto per questo ci sono degli spazi bellissimi credo che non sia facilissimo gestirli ma vedete il tema cosa è un museo nel Florentini Schattagebuch nel 5 Rilke scrive un passaggio meraviglioso in cui dice parla dei musei che è uno degli istituti delle istituzioni della nostra cultura moderna fondamentale e dice i musei sono come dei magnifici libri da cui a caso siano state strappate delle pagine Junger li descrive invece come delle delle spiagge di isole dove sono arrivati casualmente dei relitti di naufragi dei naufragi della storia uso proprio dei naufragi della storia tutti i musei sono così a questo fatto che nei musei viene raccolto ciò che la storia lascia deposita casualmente casualmente abbiamo cercato di dare delle configurazioni più o meno rispondenti a quello che noi abbiamo pensato essere i luoghi dove queste opere d'arte queste memorie del passato venivano conservate la National Gallery di Washington che a mio avviso è una meraviglia è esattamente questo il più grande collezionista del mondo Morgan la Morgan Library l'ha costruita come un palazzo come lo sciocchino del suo architetto che si chiamava McKim pensava fosse un palazzo dove poteva vivere un medici per dare alle opere d'arte un'accoglienza in luoghi che fossero simili ai quali a quelli dove si supponeva le opere d'arte medesime fossero state accolte o concepite o commissionate o godute noi siamo arrivati il capolavoro di tutto questo di questa tipologia è il Museo Modern Art di New York il Museo Modern Art di New York era stato concepito da un soi-disant storico dell'arte che si chiamava Alfred Barr Junior che in realtà era un darwiniano un seguace di Darwin pensava che l'arte si sviluppasse secondo una catena evolutiva da un punto all'altro ci sono tutti i suoi disegni e il progetto che lui elabora per la signora Rockefeller che paga il Modern Art è quello ha la configurazione di un siluro l'arte va verso il futuro e lascia dietro di sé delle scorie la signora Rockefeller segue questo curator che si era scelto e cosa fa scrive nel suo testamento che il Museo Modern Art le opere di sua proprietà invecchiate invecchiate devono essere trasferite in un altro museo perché si trovano meglio al Metropolitan perché sono vecchie cioè idiozie epocali ma però assolutamente eloquenti questo è un rovesciamento Wright è un totale rovesciamento tant'è vero che cosa cercano di fare di Wright e che cosa cercano di fare di farli diventare musei come altri di suddividerli in stanze e quindi di dare ordine a ciò che casualmente accade la bellezza del museo è la casualità degli accadimenti ero qui pochissimi giorni fa o dieci giorni fa avevo una mattinata libera sono andato alla Corsini beh così ti imbatte in cose imbattersi e imbattersi invece di avere nel 1450 nel 1457 a Urbino piuttosto che là piuttosto che là ma questo invito ad avere un rapporto più empatico e creativo con le opere d'arte e poi il significato dei musei contemporanei che noi viviamo e questo è il fatto e l'altra cosa è l'instabilità dell'opera d'arte l'instabilità totale dell'opera d'arte e tutto ciò ve lo dice una persona che per i suoi assoluti drammatici limiti culturali così come non ha la televisione è costretto a subire ogni anno tre volte all'anno l'invito di François Pinot a visitare la sua collezione grazie grazie